Il lungo pomeriggio qui dell'Ultidio Metanile Biavati, alla fine è arrivata la firma su questo atto di cessione? È arrivata, siamo ambedue molto soddisfatti di come è andata e bene così, c'è un nuovo capitolo del libro del Perugia Calcio. Io sono convinto di aver lasciato in mani forci, questa era la cosa che più mi premeva. Poi dopo con AVR staremo insieme e capiremo se ha bisogno ancora di me e in qualche modo vediamo quello che succede. C'erano diversi punti ancora in sospeso, perlomeno rispetto all'esterno ovviamente su questa trattativa, ad esempio la cessione di tutte o meno le quote e il suo mantenimento all'interno della società. Come avete trovato la quadra su questi punti? Le quote è il 100%, io sono uscito definitivamente, AVR martedì farà conferenza, oggi anzi se magari non si è fermato, non lo so se ha fatto qualche battuta, era stanchissimo, era sceso da poco dall'aereo e martedì faremo conferenza, vi racconterà un po' la sua persona e soprattutto quello che vorrà fare nel club e anche nel sottoscritto. Il suo stato d'animo dopo 13 anni a periodo? Da una parte il magone, la tristezza, ho tanti ricordi, tante cose belle, qualcuna brutta, però anche la leggerezza di un nuovo percorso e di una responsabilità importante che in parte mi sono tolto, soprattutto quella economica, però sensazioni belle perché oggi mi stanno passando davanti tutti i 13 anni che abbiamo passato insieme.